Passione per le due ruote e paesaggi mozzafiato. Sta per terminare l'attesa per la sesta edizione dell'Intrepida, la pedalata cicloturistica non agonistica nella quale i partecipanti utilizzano bici d'epoca e abbigliamento degli anni 50. L'iniziativa, che nella passata edizione ha fatto registrare 725 iscritti, è organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamis Bike e si svolgerà ad Anghiari dal 13 al 15 ottobre. Come da tradizione i percorsi disegnati dal comitato organizzatore sono tre, corto da 42 km, lungo da 85 e intrepido da 120. Tracciati spettacolari che permetteranno ai protagonisti di pedalare sulle stesse strade che il 29 giugno 1440 furono teatro della battaglia ad Anghiari. Alle precedenti edizioni hanno preso parte campioni che hanno scritto la storia del ciclismo come Francesco Moser, Maurizio Fondriest, Gilberto Simoni. Un programma ricco, impreziosito da numerose iniziative collaterali. Venerdì 13 ottobre il Teatro di Anghiari ospiterà la serata ad ingresso gratuito, aspettando l'Intrepida con il giornalista della Gazzetta dello Sport Claudio Gregori ed il vincitore del Giro d'Italia del 1991 Franco Chioccioli. Sabato 14 ottobre il Borgo Valtiberino si colorerà a festa con i mercatini d'epoca e con la musica itinerante dei Papillon. A Palazzo Pretorio, nelle giornate di sabato e domenica, ci sarà una mostra di biciclette storiche a cura di Gabriel Spaperi e nel pomeriggio alle 18, sempre nella stessa sede, avrà luogo un convegno dal titolo Alfa e Omega, l'evoluzione tecnica della bici dagli albori fino ai giorni nostri. Dalle 15.30 alle 17.30 spazio ai più piccoli con l'iniziativa La Bici mi racconta, laboratorio curato dalla Libera Università dell'Autobiografia che si terrà nei locali dell'Informa Giovani. Infine l'evento Clou in calendario domenica 15 ottobre con la partenza dell'Intrepida, tutti in sella alle 8.45 in Piazza Baldaccio. Grazie a tutti.